Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Book Talk, buonasera Antonino. Buonasera Graziano. Il nostro solito intro ormai è diventato quasi... Prima tu fai il disclaimer come dici tu e poi io dico chi si collega adesso e chi si collega dopo, dai prego vai. Ok allora facciamo la nostra solita intro dicendo che buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio di Book Talk, io come sempre faccio il disclaimer di inizio e fine puntata e cioè quello che è l'episodio come tutti quelli precedenti sarà fruibile da subito dopo la diretta, qualche minuto dopo la diretta, in formato video su Twitch, su YouTube e su Facebook e in formato audio su Audible, Amazon Music e Spotify. E poi Antonino è il tuo turno. Grazie a chi ci sta guardando in diretta, come appunto sui canali che ha appena detto Graziano, quindi Twitch e poi subito dopo gli altri e grazie a chi ci guarderà poi in differita. Ovviamente come dico sempre, se vi piace quello che diciamo noi settimanalmente sui libri, diffondete il verbo e quindi dite ai vostri conoscenti ai quali piace la lettura, ai quali piacciono i libri, di darci un occhio e ovviamente diffondete. Stasera un argomento liberissimo, no? Eh sì, diciamo. Parliamo un po' di libri. Allora, diciamo che... Parliamo un po' di libri e siamo partiti da una tua idea e poi io te ne ho palleggiata un'altra, come si suol dire in gergo. Sì, perché alla fine dei conti noi eravamo partiti da un'idea di puntata che parlasse per lo più di un certo tipo di editoria che attualmente la fa da padrona, diciamo, tra virgolette la fa da padrona. Sto parlando cioè dell'editoria dei cosiddetti influencer, un'editoria che si rivolge prettamente a ragazzi, bambini e ragazzi, che vede come protagonisti i beniamini di questi ultimi, che sono insomma diventati in questi ultimi anni i loro beniamini. Parlo dei Me Contro Te, di Ciccio Gamer, di Will Wash, di altri che dall'essere solo entità virtuali, sono entrati materialmente nelle nostre case con la materia di cui ci occupiamo noi settimanalmente qui su BookTok, cioè attraverso il libro. E quindi esaminare un po', vedere quanto ci fosse di moda in questo nuovo trend, quando invece sia, io per esempio ho un'amica libraia che mi dice sempre che a lei sta benissimo che gli influencer o simili pubblichino e pubblichino tanto, perché è una cosa che avvicina, anche chi non è molto avvezzo alla lettura, avvicina al libro, avvicina alla lettura. E quindi per lei dice, in un certo senso il fine giustifica i mezzi. Tu come la pensi a riguardo? Ma sai, io sono completamente d'accordo con la tua amica, perché poi essendo un ex libraio anch'io, allora per far entrare in libreria la gente che non legge ogni mezzo è valido, come si suol dire, in amore, in guerra, ogni arma è lecita. Poi sai, più volte noi in tutte le nostre serie di Book Talk, un po' ci siamo sempre andati vicini a questa cosa. Dovremmo togliere, secondo me, ovviamente mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo, è la mia opinione. Dovremmo togliere quella patinatura di romanticismo attorno all'editoria, attorno al libro. Cioè, fondamentalmente, chi fa il libraio, spero, soprattutto sempre, questo me lo auguro, che chi lo fa lo faccia con passione, quindi che non sia solo un lavoro, comunque chi fa il libraio, chi lavora in libreria, comunque è un commerciante. E per le norme il commercio si regge se gli utili sono utili e non perdite. Quindi ogni libraio si augura di vendere molti libri, qualsiasi essi siano. Poi, se è un bravo libraio, cerca ovviamente di, una volta che i clienti si affezionano, una volta che i lettori si palesano come tali e non solo come compratori di libri, ma anche come lettori appassionati, poi il libraio magari dà delle dritte e cerca di dirottare, se vuoi, o comunque far scoprire cose nuove alle persone che leggono. Questa è una cosa che a me piaceva fare in libreria, era la sfida più grande quella di cercare di capire cosa poter far leggere a un lettore. E quando poi il lettore si fidava di te, comunque quando il lettore si fida di te, è una bellissima cosa, perché quando il lettore viene da te e ti dice cosa mi consigli, cosa mi dai da leggere oggi. Io avevo dei lettori che addirittura venivano da me e dicero, dai, dammi tre libri. Cioè, tipo come vengono in macelleria, dammi due TD, no? Cioè, a botta chiusa, a botta sicura, venivano da me e dicono, dai, dammi tre libri. E quando arrivi a quel punto, vuol dire che il lettore si fida ciecamente di te e hai raggiunto un bellissimo step e io ne ero molto contento. Ovviamente non succede con tutti, la percentuale è minima. Non è normale. La parte degli altri esige che tu gli dia quello che vuole lui, ci mancherebbe altro. Ti sei spento il microfono? Ok. Scusami. Vado. No, dicevo che il gancio era stato questo appunto, questo tema degli influencer nell'editoria, per arrivare invece a un'altra, perché diciamo, allora, il discorso generale era che noi non siamo un popolo di lettori, no? E invece... Esatto. E quindi, no, da questo popolo di lettori, quindi è buono che gli influencer pubblichino, perché almeno nuovi lettori, ragazzi, nuove generazioni, dovrebbero essere più lettoci, dovrebbero essere in queste nuove generazioni più lettori rispetto alle precedenti. Però decade tutto questo castello di carte, perché oggi il buon Antonio mi ha mandato una serie di slide che vanno ad analizzare un po' quelli che sono i dati di vendita, ma comunque in generale i dati di mercato dell'editoria del 2022, e quindi abbiamo pensato di prendere a piene mani, eccolo qui, dall'Associazione Italiana Editori, il mercato del libro italiano ed europeo, e quindi facciamo, diciamo, una specie di commento a questa serie di slide che ci accompagneranno durante questa puntata. Naturalmente... Dalla scuola di Mauri Spagnol, lo diciamo, perché questa era una lezione finale, quindi chiunque è iscritto alla newsletter dell'AIE, dell'Associazione Italiana Editori, lo riceveva, quindi io ho ricevuto questo file semplicemente perché sono iscritto alla newsletter. Quindi è un file molto interessante, come dicevi tu, ci dice delle cose sull'editoria italiana un po' diverse da quelle che di solito ci diciamo, diciamo così. Sì, perché se vogliamo essere, insomma, poi naturalmente sappiamo benissimo che i, come si dice, i numeri possono essere interpretati in modi diversi e quindi si può essere ottimisti o pessimisti nell'interpretazione dei numeri, ma se andiamo a valutare un po' in linea di massima, la situazione non è così pessima come di solito noi pensiamo. Dai, vai, sfoglia le pagine, dai. I primi nemici di noi stessi siamo. Insomma, dopo... Su questa slide ci stiamo un minuto solo, dai. Vai. Su questa slide diciamo che tra i primi dieci gruppi mondiali non ce n'è neanche uno italiano. A posto. Che ci sta, diciamo, se valutiamo leggermente, cioè, se valutiamo semplicemente le dimensioni, diciamo che ci sta, dai, alla fine dei conti. Sì, la cosa molto divertente è che tu puoi leggere in questa classifica, la maggior parte ovviamente dei gruppi editoriali mondiali sono anglofoni, quindi con delle edizioni in inglese soprattutto, ed è facile, no? È la lingua, credo, più letta e più pubblicata al mondo, quindi ci sta. La cosa che... Aspetta, scusa, rimani un attimo di là, volissimo. La cosa che mi fa sorridere è che tra queste dieci, la terza in classifica è tedesca, che è la Bertelsmann, che fino a qualche anno fa, direi dieci anni fa, era una joint venture con Mondadori, e adesso invece si sono separate e ognuna per la propria strada, Bertelsmann rimane ancora lì, Mondadori non è tra le dieci. Se però non siamo tra i primi dieci gruppi editoriali mondiali, siamo invece ben piazzati in quanto a volumi di vendita, insomma, diciamo. Esatto, esatto. Perché l'editoria italiana è il sesto posto. Sesto posto a livello mondiale, quarto se contiamo solo, diciamo, casa nostra, l'Europa, il nostro continente. E non è mica male, insomma, se contiamo che comunque sia... Le dimensioni del nostro paese non è che sono alla pari rispetto, penso, alle prime due posizioni in classifica, insomma. Le dimensioni del paese, ma anche il numero di lettori, se ci pensi. Il numero di lettori, certo. Perché comunque siamo 60 milioni, tutto sommato, e non leggiamo tutti, perché qualche bambino che non legge c'è ancora, e poi, come diciamo sempre, solo il 20% dei lettori della popolazione legge. Il dato interessante di questa slide, ed è per questo che ti ho chiesto di rimanerci, di farla vedere, era che il secondo posto mi incuriosisce un sacco. Perché pensare che la Cina è seconda, è seconda di staccata di gran lunga dagli Stati Uniti, con i miliardi di popolazione che ha, vuol dire che questa cosa nel tempo potrà cambiare molto. E lì non c'è ancora, in questa slide delle vendite dell'editoria mondiale, il secondo grosso colosso dell'est, che è l'India. Quindi, da qui a qualche anno, secondo me, questa graduatoria dei primi sei, sette posti cambierà molto. Beh, insomma, sì, alla fine dei conti siamo in una fase di transizione in questo momento. Quindi, diciamo che la Cina, anche solo per numeri, quantitativamente, doveva essere lì. Certo, certo. Vuoi o non vuoi, doveva essere lì. Lì basta, secondo me. Però ci sta anche che loro sono ancora una dittatura, e che probabilmente ancora c'è una grandissima fetta di popolazione che non legge. Beh, di sicuro il dislivello rispetto agli Stati Uniti è dovuto principalmente a questi fattori. Poi, insomma, che loro comunque siano un triliardo di persone, quindi, vuoi o non vuoi, i libri, anche se in minima parte si vendono, ma se si vendono in minima parte in un gazziglione di persone, capisci bene che comunque sia, vai a incluire su una classifica del genere. Esattamente. Una cosa che mi correggo, mentre stavo facendo questa riflessione, è sull'India, perché mi sono ricordato che molto probabilmente la maggior parte degli indiani legge anche in inglese. Quindi, oltre alle loro lingue, essendo loro una ex colonia inglese... Sono nella classifica di prima, influiscono nella classifica di prima. No, ma sì, esattamente. Esattamente, ma anche qui, anche qui, l'editoria, come si dice, USA è molto avanti, la UK è quarta, quindi le pubblicazioni in inglese sono molto vendute. Dai, vai avanti. Vediamo un attimo. Qui c'è un po' l'andamento del mercato del 2022 rispetto al 2021. Diciamo che l'Europa nel 2022 è ancora in salute dal punto di vista dell'editoria, si vende ancora, si legge ancora. Questo è il dato che invece mi piace molto. Sì, valuta... Allora, questa è praticamente una classifica che mette a confronto i vari media che sono legati alla cultura e i volumi di vendita dei vari media. Quindi, insomma, il fatto di avere come principale medium culturale ancora il libro è una cosa che fa rinfrancare il mio cuor di Tuscalusa, come diceva... Sì, se qualcuno vuol fare un fermo immagine e leggersi tutte le voci, ovviamente quando lo guarderanno indifferita, è molto interessante che ancora il libro la faccia da padrone, perché la P.I.T.W., il cinema... Giusto per citare due cose, la P.I.T.W. e i videogiochi oggi spopolano che è una bellezza, eppure sono ancora molto indietro rispetto ai libri. Penso soprattutto ai videogiochi, che sono, insomma, quasi alla metà si attestano rispetto a... Esattamente. Quindi, insomma, è una cosa positiva. Per noi che abbiamo i libri è una cosa positiva. Ah sì, certo. Perché abbiamo i videogiochi magari un po' meno, però... Una cosa che io ho sempre detto, da ormai una decina almeno di anni, forse anche di più, dico sempre che comunque il libro è la forma di intrattenimento meno costosa in assoluto. Sebbene qualcuno dica che il libro costa un sacco, io dico non è vero, perché il libro... A parte che ci sono quelli economici, ci sono le edizioni economiche, ci sono i reminder che costano il 50% del prezzo di copertina... Ormai ogni mese tutti gli editori fanno le varie proporzioni, leggevano l'altro giorno i due libri a 9,90. Esattamente. Quindi quando ci sono i due libri a 9,90, un libro costa 4,75, 4,95. Quindi non ha senso dire che costa molto. Ma il libro, oltretutto, oltre ad averlo pagato così, lo puoi prendere in mano tutte le volte che vuoi. Lo puoi rileggere tutte le volte che vuoi. E quindi, se tu vai al cinema, vai al cinema a vedere un film una volta, già paghi di più che prendere un libro. E questa è una cosa che dirò da te. Si fa un computo orario. Esattamente. Un libro che tu paghi 15 euro ti tiene compagnia per una settimana, due. Esatto. Un film ti tiene compagnia per due ore. L'hai pagato... Due ore, due ore e mezza. Quelli tipo Signore degli Anelli, Extended Version... Ma comunque stiamo parlando di ore. Stiamo parlando di ore comunque. Esatto. L'hai pagato la metà, ma ti tiene compagnia per due ore. Esatto. Mentre un libro, insomma... Dai, carrellata. Andiamo avanti, andiamo avanti. Un focus sul mercato del libro divaria in Italia nel 2022. Si vede una leggera diminuzione del 2,3% in meno rispetto al 2021, però il dato che quando mi hai fatto vedere queste slide mi ha colpito particolarmente e mi ha fatto pensare, alla fine dei conti, forse il Covid non ha fatto solo cose negative, è quel 13,1% in più rispetto al 2019. E consoliamoci così. Qua è a valore, ovviamente. Sì, naturalmente. Scusate. Qua è a valore, ma poi vedremo che anche a numero di copie vendute più o meno riflette questo numero. Cioè io non mi aspettavo una crescita così alta. È stato questo, sì, è stato proprio questo. Cioè che è vero che rispetto al 2021 e il 22 ha perso un po', però evidentemente il 2021 rispetto al 2020 e rispetto al 2019, il 2020 e il 2021 rispetto al 2019 sono cresciuti veramente tanto perché, come tutti sappiamo, siamo stati in casa molto e le persone hanno usufruito molto degli acquisti dei libri, delle biblioteche. Perché, se ti ricordi, c'è anche quest'altra cosa, le biblioteche erano chiuse. Solo verso la fine le biblioteche hanno potuto riaprire con quelle norme, tutte assurde, di igienizzazione dei libri. E ti dico di più per portare, insomma, diciamo acqua al nostro mulino perché poi alla fine dei conti, quando uno comincia a leggere, si innamora della lettura, io sono convinto di questa cosa, senza questioni di eccezioni e quant'altro. Vedevo tempo fa un video che esaminava i dati di invece fruizione del cinema italiano. E naturalmente il 2020 è stato un anno mefasto, naturalmente, ma andando a vedere i dati, dalla riapertura dei cinema in Italia, addirittura il 2021 ha avuto un'incidenza inferiore al 2020. Cioè, è veramente tragica. I 2020 che erano chiusi, certo. I 2020 che erano chiusi, i mesi naturalmente in cui sono stati aperti, quindi subito dopo la riapertura, dopo il lockdown e quant'altro, quei pochi mesi. Il 2021 è stato peggiore del 2020. E infatti è una delle cose che gli attori dicono perché c'è proprio questa perdita e infatti è per loro un problema. Ne sentivo parlare anche qualche giorno fa in altri podcast. Attori, non faccio nomi perché sennò poi tutti gli altri vanno a guardare. Cercateli in rete, ci sono degli attori che hanno partecipato a podcast che denunciano questa cosa. Dai, scorri! No, per chiudere questo discorso, se tu conti che comunque sia stiamo parlando di dati post-covid, che in quel caso messi a confronto ai dati pre-covid, erano un'ecatombe. Qui quel 13,1 sul 2019 è ancora più positivo. È ancora più bello, ci fa stare ancora meglio. Andiamo avanti. No, ma sai qual è la cosa divertente? Che tra quei 1.671 miliardi ci sono anche i nostri soldi. Ma non sono mai stato così. Perché noi non è che ce li regalano i libri, li compriamo anche noi. E questa è la cosa divertente. Senti, ma sono soldi ben spesi. Ah beh, lo dice a me che... Quando i soldi sono ben spesi... Io rispetto a te poi non ho nemmeno il gioco dell'e-reader che tendenzialmente almeno un 10-15-20% in meno rispetto alla carta costa. No, in realtà a me è l'esatto contrario. Perché io compro il libro fisico e compro... Ah già è vero, tu raddoppi. Ah già è vero, poi ci sono anche i malati come te, hai ragione. È vero. Perché? È perché io tengo il libro cartaceo nello zaino, lo porto in giro per lavoro e quindi lo leggo quando sono in giro per lavoro, e la sera quando sono a letto invece lo stesso libro lo leggo in formato ebook. No, no, ma infatti hai ragione, mi ero dimenticato da ex-libraio che ci sono tanti lettori malati. Ce ne sono tante di malattie da lettori, sì, sì, hai ragione. Andiamo avanti. Questa invece è tutto quello che abbiamo detto. Questa è praticamente la fotocopia di prima. In... In numero di copie stampate, quindi milioni di copie vendute, è la stessa cosa. Dai, vai avanti. Andiamo ancora avanti. Questa è la cosa che dicevo io prima. Sì. E' una cosa divertente. Guarda, il prezzo medio di un libro, mediamente in Italia, è 14,84. E questo è quello che dicevamo prima. E' vero che ci sono i libri da 30, 35 euro, le novità, i saggi in particolare, i libri da arte. E' vero che costano tanto certi tipi di libri, ma grazie agli sconti, grazie ai reminder, grazie alle campagne, alla fine un libro in Italia costa 14,84. Io dico sempre, mediamente 15 euro. La cosa divertente è che dal 2021 non è variato, mentre invece è diminuito rispetto al 2019. Quindi questa cosa vuol dire che c'è molto più di mix di acquisto tra i libri nuovi e le... Le collane, le offerte. E' un po' di libri, eccetera, eccetera. Dai, vai. Andiamo avanti, andiamo avanti. Il numero di libri... Questo è il mio dato preferito. Ok. Allora... Questo è il mio cavallo di battaglia. Questo numero me lo gioco tutti gli anni. Vai. E allora spiegaci. Allora, questo è il numero di libri pubblicati in un anno. Cioè nel 2022 sono stati pubblicati 76.575 titoli. Mamma mia. Numero... Aspetta che mi avvicino perché se no non leggo bene. perché ecco, numero di nuovi titoli, quindi vuol dire che 76.575 sono titoli nuovi, quindi esclusa la scolastica, escluso le ristampe dei classici, esclusi i long seller, quindi 76.575 titoli nuovi in un anno. Cosa vuol dire? Quanti libri, quanti anni servirebbero ad un lettore forte come te? Questa è la cosa che mi fa divertire di più. Io a casa, senza esagerare, ma veramente stando basso, avrò almeno 100 libri che non ho ancora letto. E visto che io leggo mediamente 20-25, facciamo... Mi allargo, facciamo 30 libri in un anno, vuol dire che ho tre anni di lettura, potrei per tre anni non comprare più libri, ma invece sono talmente pirla che continuo a comprarli. Ma questo è un altro paio di mani. Ma questa è una cosa. Una di quelle malattie di cui parlavi prima. Esattamente, una di quelle malattie di cui parlavi prima. E questo numero qua è devastante. Perché se ci pensi, ne parlavo anche l'altra sera durante la presentazione con Giulia Ciarapica in Biblioteca Oliveriana qui a Pesaro, 76.575 titoli nuovi, vuol dire che ogni giorno mediamente vengono stampati 200 titoli nuovi. Ogni giorno. che io se ne leggo 30, vuol dire che già dal primo giorno sono in deficit di 170, e poi il secondo giorno è deficit di 3,70, e poi di 7,70, e poi aumento. Io praticamente con la pubblicazione del primo giorno sarei a posto per 200 diviso 3, diciamo 15 anni di lettura. 15 no, però diciamo 7 anni e buoni. Vabbè, stavo esagerando. Sì, sì, sì. Stavo facendo il cretino a posta. Lo sai che non sto facendo i conti volutamente. No, certo, certo. Però è questa la cosa, no? E questo discorso per me è molto importante. Questa slide per me è la più importante di questo studio. perché è una cosa che mi disse anche qua uno scrittore 6-7 anni fa che si chiama Bruno Osimo. Questo numero è proprio quello che deve alzare il nostro livello di esigenza nei confronti delle nostre letture. Perché se è vero che escono così tanti libri, se è vero che comunque abbiamo un tempo limitato per leggere, nel tempo in generale e nel tempo anche settimanalmente, quindi io devo per forza decidere di leggere solo quello che veramente mi piace. E io mi fermo a dire solo quello che veramente mi piace, non voglio entrare nella polemica scritto bene, scritto male, classico, letteratura, eccetera, eccetera. Quello che mi piace. Quindi, da buoni lettori che siamo tutti quanti noi, che ce la cantiamo e ce la suoniamo, oh, non abbiate paura a mollare i libri. Quando un libro non vi piace, quando un libro non vi piace, mollatelo, perché ne avrete un altro che vi piacerà di più. Questa cosa qua, io la dico così, tra virgolette, ridendo a cuor leggero, perché fino a qualche anno fa, anche io ero uno di quelli che doveva finire per forza tutti i libri che iniziava. Adesso lo faccio in maniera meno... No, allora, io invece, io no, io lascio. Però ci provo fino alla fine. Cioè, devo proprio arrivare ad un punto di non ritorno. Devo rischiare il blocco del lettore. Diciamo che, secondo me, il punto di non ritorno è metà al massimo. Perché se è a metà libro, tutta la prima metà del libro, non ti è piaciuto per niente, secondo me a quel punto bisogna lasciarlo. E poi chi legge tanto, chi legge, comunque sa che cosa gli piace, sa che cosa... Per esempio, il thriller. Te la dico proprio, te la butto lì, facile, facile, facile. Il thriller. Se tu alla quarta pagina hai capito come va a finire, e ti leggi gli ultimi tre capitoli, ed è esattamente quello che tu avevi capito, hai fatto bene a mollarlo. Sì, ci sta. Se invece un libro di narrativa, cioè, per esempio, lo sai che sto leggendo da un po' di settimane le ferrovie del Messico? Sì. Sono ancora a pagina, credo, 650. Quindi mi mancano ancora 150 pagine. Però sono lì. E lo sto portando avanti. Perché ha una scrittura tale per cui rimango lì, nonostante le sue 860 pagine, 825-835, non mi ricordo, rimango lì, perché mi sta incuriosendo. Nel frattempo sto leggendo altre cose, ma non lo mollo, perché mi dice, vai avanti perché devi andare avanti. Quindi questa roba qua è quella per dire, raga, tranquilli, con la lettura. Primo, intanto, come dico sempre, leggere non è obbligatorio, non ce l'ha ordinato il medico, facciamo la cosa che ci piace fare. Se ci piace leggere, leggiamo. Se non ci piace leggere, facciamo altro. Ognuno di noi ha le proprie priorità. Ovviamente le due persone che vi stanno parlando adorano leggere, se no non farebbero un appuntamento settimanale a parlare di libri. Io ho sempre detto che una volta che tu completi la lettura del tuo primo libro è come se scattasse una scintilla, perlomeno con me è successo così. Devi essere fortunato però, perché per esempio una cosa che io dicevo spesso quando ero in libreria e quando le mamme mi venivano a dire come faccio a far leggere mio figlio, questa cosa forse te l'ho già anche raccontata, io dicevo innanzitutto, prima di tutto, sei sicura che gli piace leggere, magari no. E poi secondo gli dicevo che cosa gli piace fare, quali sono le cose che gli piacciono tanto, fagli leggere dei libri sulle cose che gli piacciono tanto. Da lì inizierà ad amare la lettura, perché se tu invece imponi cose, titoli, storie, eccetera, poi le forzature sono veramente la peggior cosa possibile di immaginare. Dai facciamo una scorsa veloce delle slides, andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo curiosi. Questo è un altro dato interessantissimo. Eh sì, mamma mia. È una cosa che, qua ci stiamo proprio veloci veloci, è una cosa che mi diverte perché credo sei, sette anni fa io dicevo questa cosa qua, dicevo noi italiani non siamo fatti per l'e-reader, quantomeno non ancora. e infatti questo lo dimostra. Quando possiamo lo molliamo. Sì. Quando ci è necessario, e questi sono gli anni ovviamente in cui siamo stati chiusi a casa, no? Quindi non era necessario. Potevamo tenere anche il libro in mano a casa. E l'abbiamo dimostrato. nel 2022, nel 2021 e nel 2019, cioè scusami, il 2022 rispetto al 21 e al 19, c'è una flessione importante dei libri elettronici. Anche adesso che riusciamo e che ci potrebbe ritornare utile, ci è ripiaciuto così tanto avere in mano il libro? che sì, ok, lo continuiamo ad usare, perché lo continuiamo ad usare. Però serve un periodo fisiologico, secondo me, comunque sia una flessione che sicuramente non arriverà. Comunque è il futuro. Comunque è il futuro. No, nel senso che sono numeri che non pareggeranno mai quelli dell'editoria in carta, per intenderci, ma... No, io non sono mai così tranchant, perché secondo me col tempo magari non saremo più vivi noi, ma a un certo tempo... Parli proprio di... Le biblioteche cartacele diventeranno solo storia, monumenti, e magari sarà tutto... Non lo so, il futuro così là non riesco neanche ad immaginare. Stiamo parlando di un futuro che non ci riguarda, quindi via. Vai avanti. Allora, questo è un'analisi, quello che abbiamo visto, sì. Stampa, eccetera, e questo è il trend. Beh, un andamento molto più discontinuo rispetto al 2021. Tradizionate nei mesi, no? Ma sempre sopra il 2019. Sempre sopra il 2019, ma nei mesi è andato così, ovviamente, e questa cosa è la cosa che la gente non mi crede quando la dico, cioè, guardate quanto pesa dicembre. Ah, beh, insomma. Cioè, dicembre, nell'arco dell'anno... Ma ti ricordi quando a Natale dicemmo che ogni 100 euro di spesa per i regali di Natale, 70 errotti erano per lì? Sono liberi. Esattamente. Quindi ci piace un sacco regalare i libri. A me piacerebbe di più che ci piacesse anche farceli regalare e leggerli. Ma andiamo avanti, dai. Perché non mi ricordo quante slide ci sono ancora. Siamo più o meno a metà, però siamo già a 32 minuti. Sì, va bene, ma queste qua sono tutte grafiche che non ci interessano. Quindi siamo un po' più sul tecnico che, insomma... Sì, sì, sì. Questo è interessante. Sì. Questo è interessante perché si vende più nelle librerie fisiche rispetto ai centri commerciali, rispetto alla rete, rispetto ai GDO. E cioè rispetto anche alla... Sì, rispetto alla rete. Quindi questa è una cosa che mi piace, anche se anche questo è un dato che probabilmente cambierà. La GDO, secondo me, ha un grandissimo pregio che io mi compro un libro mentre faccio la spesa, ma ha anche un grandissimo difetto che è il catalogo veramente risicato e a parte i grandi ipermercati che hanno veramente una libreria all'interno, nel senso proprio nell'interno dell'ipermercato, gli altri negozietti hanno la classifica, niente di più. Poi invece io, come lo leggo questo dato della GDO, sono due momenti totalmente diversi a livello proprio di mood con cui tu affronti il momento. Io quando entro in libreria sono molto calmo, devo perdere il mio tempo, leggere la seconda, la quarta di copertina, bla bla bla. Mentre se sono in un supermercato a fare la spesa, vedo il libro, mi fermo a guardare la copertina sicuramente, però non ho quella tranquillità mentale che mi dici adesso a farmi fermare. Non te lo sfoglie, non te lo sceglie, hai ragione. però se è quel libro che volevi prendere, magari lo prendi anche lì. Lo trovo avanti e con l'occasione lo vendo. Sì, assolutamente. Un'altra cosa invece, c'è un grande dato in questa cosa, perché da solo due anni è cambiata quella legge. Ti ricordi che la grande distribuzione, la rete, aveva una forte arma rispetto alle librerie fino a due anni fa, che era lo sconto 15%, che adesso è diventato il 5%. Quindi sia i vari negozi online che la GDO può fare al massimo il 5% di sconto sul prezzo di copertina e quindi probabilmente a quel punto la gente capisce vabbè, per il 5% di sconto vado in libreria e scelgo su un catalogo molto più ampio, vado a sfogliarmi i libri che mi piacciono a scaffale invece di prenderlo qua. Mentre invece i best seller fino a due anni fa nella GDO si vendevano molto perché costavano appena usciti il 15% in meno del prezzo di copertina. Dai, vai a male. Le librerie vanno con le cose per la comparazione. Quote di mercato, vabbè, se volete poi vi fate fermi immagini. Queste sono le i generi, i generi sono molto divertenti secondo me e c'è una cosa che verrà avanti forse dopo parte del c'è un come si dice a parte i fumetti che crescono a tre cifre che è una cosa incredibile ma soprattutto grazie agli anime sicuramente in tutte le librerie che frequentate avrete visto che qualsiasi libreria ha aumentato lo spazio dedicato sia alle graphic novel ma in particolare agli anime perché i ragazzi gli adolescenti ma anche gli adulti che stanno riscoprendo il piacere di leggere alla giapponese cosa che piacere che io non ho mai avuto per esempio la mia libreria di riferimento è passata da un metro a cinque metri in sei mesi ed è esattamente quel numero lì avete visto più 130% e se tu vedi anche il picco che hanno tutti gli altri generi a Natale i fumetti non ce l'hanno perché sono costanti perché è sempre costante esatto dai vai perché mi sa questi sono i dieci libri sono i dieci titoli più venduti dell'anno scorso vediamo cosa hai letto eh? cosa hai letto tu di questi allora sai che credo solo solo tre solo tre uno, due, tre tre anch'io io ho letto solo il libro di Matteo Bussola che era molto contento ovviamente di essere tra i primi dieci più venduti l'anno scorso certo poi Circe e poi L'Allende perché quello di Dicker non l'ho letto io invece ho letto Dicker eh non mi piace che te lo chiami Dicker come dovrebbe essere chiamato io invece dico sempre Dicker io lo dico all'inglese Joel Dicker invece dovrebbe essere Joel Dicker Joel Dicker Matteo Bussola anch'io bellissimo e anche Finché il caffè è caldo allora qua in questa classifica c'è un dato molto forte che il primo e il terzo sono quel e poi vabbè non mi voglio dilungare dico solo questa cosa sono quel trend che è cresciuto probabilmente di più in Italia in assoluto nella narrativa cioè il romance per young adult quindi il romance è cresciuto in generale ma il romance per giovani adulti è cresciuto tantissimo e infatti il primo anche grazie a loro due perché poi è una saga e grazie a quei due titoli che hanno fatto da traino ad altri titoli vai questa è talmente scritta piccola che non la leggo neanche però penso che dica più o meno quello che ho detto io sì più o meno sempre a livello di generi mette a confronto gli anni ragazzi ho lo schermo piccolo del pc quindi non lo leggo bene questa è una è una bellissima è una bellissima immagine che il catalogo è tornato fuori quindi oltre alle novità nel 2022 questa è un altro delle cose che dico sempre e che mi piace allora negli ultimi anni c'era una tendenza si vendeva tantissimo la novità e aveva iniziato a vendersi meno il catalogo adesso sto per dire una cosa che sembrerà strana ma invece strano non ho sentito ti devo pippare no 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 questo dato è soprattutto grazie ai bookstagrammer e ai booktoker perché per fortuna non fanno promozione solo delle novità e ci sono dei booktoker dei bookstagrammer che parlano quasi esclusivamente di titoli che hanno avuto successo da 10 20 anche 30 anni fa riscoperte di autori ne parlavamo anche di questo con Giulia Ciarapica in presentazione anche perché lei è una di quelle che di solito veramente caldeggia la lettura dei classici italiani del novecento dell'inizio del novecento della metà del novecento e quindi questa cosa questo è un bel dato a me questo dato piace molto infatti sai che cosa mi dice questo dato smettila di comprare libri e leggiti i cento che hai da leggere a casa forse così facile andiamo avanti ok vabbè qui siamo sempre nell'analisi più o meno queste cose qua diciamo lasciale lì qualche secondo così si fanno i fermi immagini se le leggono da sole alla fine sono dettagli tecnici più che altro analistici e qui c'è una previsione la previsione ma qui anche questa la rimuoviamo torniamo a voi noi ritorniamo e a questo punto io te la faccio a te la domanda cosa ci dobbiamo aspettare dal 2023 anzi cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro prossimo e per futuro prossimo intendo i prossimi cinque anni ma buona madonna no io a cinque anni non ho mai saputo vedere vabbè è normale che si tira a indovinare però per come vedi tu no allora io ti posso dire che cosa possiamo provare allora intanto il trend di quello che dicevo prima dei romance e dei young adult continuerà e quel filone è erroneamente denigrato ne parlavo anche qualche giorno fa scusa quando parli di romance dato che non mastico la materia quando parli di romance parliamo di romanzi d'amore non solo sì ma non solo prettamente i romanzi d'amore perché il romanzo d'amore è sia quello classico quello che i nostri fratelli maggiori i nostri genitori si ricordavano come harmony ok ok ma il romance è una cosa nuova cioè il romance per i giovani adulti ha sì la parte d'amore ma anche la parte di narrativa legata ai problemi attuali cioè tipo i problemi di comunicazione i problemi intergenerazionali sono dedicati alla fascia adolescenziale soprattutto diciamo questa cosa qua quei giovani che stanno diventando adulti infatti il grande marco si chiama proprio giovani adulti no quella roba lì sta crescendo crescerà secondo me anche quest'anno ne è partito un filone in quelli facciamo entrare anche i chiclit come venivano chiamati fino a qualche anno fa che sono quelli tipo i love shopping della Kinsella come si chiama la mia amica quella con i mutandoni che hanno fatto anche i film con Hugh Grant e Bridget Jones quindi tutto quel mondo lì continua a crescere la cosa interessante che cresce il catalogo questa cosa continuerà a succedere e poi succederà una cosa secondo me quest'anno perché il 2021 e il 2022 sono stati due anni di è uscito di tutto perché nel 2020 non è uscito niente ok quindi tutte quelle uscite che erano previste nel 2020 21 e 22 sono dovute andare fuori per forza nel 2023 si ritornerà verso una normalità che è poi una normalità quella che dicevamo 200 titoli all'anno io mi auguro che l'anno prossimo pochi 200 titoli all'anno 200 titoli al giorno scusami ecco io mi auguro che quest'anno si torni sotto i 200 titoli perché per esempio fino a qualche anno fa si parlava di 60 62 mila titoli stampati l'anno che uno dice sono tantissimi sì sono tantissimi è vero però se ci pensi che come dicevamo all'inizio per le librerie le librerie sono è commercio l'editoria è industria quindi l'editoria per continuare a vivere deve continuare a lavorare perché per continuare a far soldi ha bisogno di farli i soldi ha bisogno di chiederli i soldi le banche per poter continuare a far finanziamenti alle case editrici hanno bisogno di sapere che la case editrice continua a stampare continua ad uscire adesso io sto facendo un discorso veramente tagliato su con l'accetta cioè andare poi nel dettaglio è un mestiere però a grandi linee è questa cosa qua cioè se abbiamo una case editrice che pubblica senza esagerare di quei 200 titoli 50 ci sarà una ragione secondo me qual è la cosa intelligente o quantomeno la cosa che a me piace fare andare a scoprire anche cose nuove io una cosa che dico sempre anche quando ero in libreria ma ancora quando ci torno e chiacchiero con altri lettori è vai sullo scaffale gira lo scaffale perché magari un titolo ti attrae magari una copertina ti attrae magari lo prendi in mano il libro lo sfogli leggi qualche pagina a caso io dicevo questa cosa ai lettori apri il libro e non leggere l'incipit perché l'incipit è fatto apposta per incollarti lì apri il libro a caso e leggi delle pagine a caso se quelle pagine a caso ti risuonano probabilmente quel libro potrebbe piacerti ma poi il libro Gigi Proietti diceva una grande cosa non esistono barzalette vecchie perché per chi non l'ha sentita una barzalette è sempre nuova stesso discorso e questa è un'altra delle mie massime bravo un libro che non hai letto è comunque nuovo può essere uscito ieri e può essere uscito dieci anni fa esattamente sono assolutamente d'accordo ogni libro che non hai mai letto è un libro nuovo e poi io dico sempre al contrario oltre a dire questa cosa qua ogni libro che non hai mai letto è sempre nuovo un libro non ha data di scadenza esatto non passa mai potrebbe essere scritto in maniera che non ti piace perché è vetusta siamo d'accordo quello che dicevamo in altre circostanze io ho provato a rileggere i classici dell'ottocento e alcuni tipi di scrittura mi sono ostici e li ho lasciati un linguaggio più aulico legato a quel periodo no ma non solo per quello perché magari anche il linguaggio aulico ti aiuta a migliorare anche il tuo modo di esporre ma invece magari in quel dato momento non c'hai voglia di leggere quell'audio semplicemente io invece se ti devo fare una piccola previsione così buttata lì penso che in tutto questo c'era un grande assente in questi dati ma forse perché è ancora all'inizio l'audiolibro è un territorio inesplorato e leggevo un articolo proprio l'altro ieri grazie secondo me influirà molto nell'editoria dei prossimi anni secondo me quel trend di abbassamento della pubblicazione di ebook si invertirà non che arriverà ai numeri dell'editoria in carta ripeto però si invertirà diciamo che si attesterà intorno alle 40.000 ai 40.000 titoli annui secondo me si può arrivare ai 40.000 titoli annui è tanto è tanto beh una crescita di 5.000 titoli rispetto a quest'anno che comunque in forte decrescita rispetto al passato perde il 29% se non mi ricordo male ma stiamo parlando degli ebook o degli audio ah ok scusami mi ero perso via pensavo stessi parlando che ti auguravi di un 40.000 titoli in audiolibro no sto parlando dell'audiolibro dell'audiolibro allora il problema dell'audiolibro è la produzione dell'audiolibro perché ci vuole tempo e ne sai qualcosa vero ci vuole però fisicamente del tempo per ne sai qualcosa tra l'altro domani mattina esce il nuovo capitolo del signore degli anelli come tutti i giovedì mattina e e quindi vuoi svelare anche chi legge questa settimana e così la salutiamo la salutiamo vai salutiamola salutiamo la nostra Francesca Ferrante che leggerà il terzo capitolo del ritorno del re del signore degli anelli da domani alle 8 online su tutte le piattaforme comunque posso dirti che è veramente una goduria a prescindere dal fatto che qualche capitolo l'ho letto anch'io ma è veramente una goduria cioè io il giovedì mattina mi ascolto quello che riesco prima di andare di iniziare a lavorare e poi invece la goduria della domenica mattina la domenica mattina per me è ascoltare il capitolo del signore degli anelli grazie ti ricordi due anni fa come ti avevo fatto una testa così ma no ma sei pazzo non lo fare cosa e invece adesso ti devo solo ringraziare perché hai avuto un'idea bellissima e quindi insomma diciamo che è un territorio inesplorato e ha delle potenzialità eccezionali secondo me però bisogna vedere quanto si è disposti perché insomma appunto i tempi di produzione sono molto più larghi rispetto a un e-reader che il lavoro è praticamente già fatto quindi questo secondo me quello è il grande assente in questi dati che abbiamo analizzato stasera si e poi la produzione degli audiolibro comporta n cose cioè quindi chiamare anche le voci giuste infatti ti dicevo l'articolo che leggevo l'altro giorno era incentrato sulla differenza della scelta futura del far leggere l'audiolibro ad una persona o a un simulatore vocale e quindi questa cosa perché se i simulatori vocali e non abbiamo trattato l'argomento più forte delle ultime settimane quindi chat GPT chat GPT esatto se il simulatore vocale dovesse diventare come chat GPT che impara migliora bla 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 boh potrebbe anche essere che qualche attore qualche doppiatore smette di leggere gli audiolibro perché magari le case di produzione per risparmiare gliele fan leggere all'intelligenza artificiale non lo so non lo sappiamo perché andiamo buttando lì anche questa dai ok per quanto la voce sintetizzata possa essere perfetta e seguire una punteggiatura ok ma c'è un'intenzione nella frase e mi viene in aiuto il lettore che sto ascoltando in questi giorni sto ascoltando quattro stagioni per vivere di Mauro Corona letto da un lettore che ci tengo a citare perché è veramente bravo mi sta piacendo tantissimo Diego Baldoin ah no pensavo Gifugno no no Gifugno è del mio paese ci tengo sotto Fabrizio Gifugno è di Lucera quindi però è molto bravo e quindi non è che perché di Lucera è più o meno bravo è molto bravo a prescindere sì sì e quindi questo secondo me influirà tanto ma io se penso ai navigatori quando ti dicono le vie storpiate figurati se ti leggono un libro in quel modo divento pazzo no allora in quel modo no però ti ripeto nel momento in cui si attrina la tecnica della voce sintetica ok mi sta benissimo che legga una voce sintetica ma il più che può fare la voce sintetica è seguire la punteggiatura non cioè devi comunque tu puoi stare lì ad ascoltare e dargli tu l'intenzione attraverso un'istruzione l'intenzione che deve avere quella frase e quindi si allungano i tempi di produzione anche in quel caso perché tu comunque devi ascoltare tutto e dargli l'istruzione per modificare l'intenzione con cui legge quella frase parlando di futuro come dicevamo prima probabilmente anche questo non lo sentiremo io non credo perché sono fra un mese qualcosa ho 52 anni quindi certo che lo vedrai la velocità di questo tipo di tecnologia è esponenziale quindi nel giro i 10 anni cambierà tutto stavo facendo la cosa che mi riesce meglio lo scemo comunque io penso che abbiamo parlato anche abbastanza eravamo sì abbiamo detto che saremmo stati brevi ma non ce la facciamo adesso soprattutto quando le cose ci prendono e allora signori disclaimer di fine puntata grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta grazie a coloro che ci seguiranno in differita ricordiamo che da qui a qualche minuto la puntata sarà online in formato video su twitch youtube facebook e in formato audio su amazon music spotify e audible grazie a tutti grazie a te antonino grazie grazie e grazie a tutti quanti a settimana prossima buona serata buona settimana e ci vediamo domani con il capitolo del signore degli anelli ancora ciao a francesca e alla settimana prossima con una nuova puntata di book talk buona serata ciao a tutti ciao a tutti